Il cadavere trovato in strada a Cosenza, le indagini. Il cadavere di un uomo di 44 anni è stato trovato nei pressi di via degli stadi, riverso tra i rovi a bordo strada. Il corpo si trova poco dopo il cavalcavia dell'autostrada A2 del Mediterraneo. Il cadavere dell'uomo di cui ancora non sono state rese note le generalità è stato trovato nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cosenza che hanno avviato le indagini. Al momento non si conosce la causa del decesso, ma gli investigatori escludono la morte violenta. Potrebbe anche essere morto per l'assunzione di una dose eccessiva di sostanze stupefacenti. Ad allertare i soccorsi è stato un amico dell'uomo. Il personale medico del 118, giunto immediatamente sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 44enne. Per cause in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate sulla statale 106 nei pressi del bivio di Roccelletta di Borgia. Il conducente della moto, una Yamaha, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi e non ha mai perso i sensi. Sul posto anche Anast e Vigili del Fuoco, oltre ai carabinieri, per i rilievi del caso, disagi al traffico. Favorivano latitanza BOS di Indrangheta, 14 arresti nel Regino. Un'organizzazione dedita ad agevolare la latitanza di BOS di Indrangheta è stata disarticolata dai carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, che hanno arrestato 14 persone, due ai domiciliari, ritenute responsabili a vario titolo di traffico di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, favoreggiamento personale di latitanti e detenzione porto abusivo di armi da sparo, comuni e da guerra. L'operazione denominata GEAR è stata condotta tra Reggio Calabria, Teramo e Benevento, con il supporto dei reparti territorialmente competenti, dallo squadrone eliportato Cacciatore di Calabria, dell'ottavo nucleo elicotteri di Vibo Valencia, del nucleo carabinieri Cinofili, con il coordinamento della DDA Regina diretta da Giovanni Bombardieri. L'organizzazione aveva stabilito la sua base nevralgica in una cava di inerti situata a Gioia Tauro, individuata grazie alle indagini condotte dalla sezione operativa della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro e fa seguito agli arresti dei latitanti Antonino Pesce, Salvatore Ezzi e Salvatore Palumbo. Proprio al monitoraggio di mogli, fidanzate, parenti e favoreggiatori dei latitanti aveva fatto emergere la centralità del sito di estrazione, che poi si sarebbe rivelato essere un vero e proprio snodo delle attività delittuose. Il monitoraggio della cava aveva permesso anche ai carabinieri di Gioia Tauro di catturare il 14 aprile 2018 un quarto latitante, Vincenzo Di Marte. Inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi è ritenuto un elemento di spicco della cosca pesce. I componenti dell'organizzazione, secondo l'accusa, con diversi ruoli, avrebbero messo a disposizione dei latitanti Ezzi, Pesce e Di Marte immobili dai di birra al rifugio, avrebbero fornito genere alimentari e di prima necessità, nonché strumenti meccanici ed elettronici. Inoltre avrebbero curato gli appuntamenti dei latitanti con altre persone, garantendo anche i contatti con i familiari e organizzando gli spostamenti. Un quadro indiziario che ha portato il GIP Stefania Rachele ad ammettere il provvedimento sul richiesta del procuratore aggiunto, Calogero Gaetano Paci, e del PM Francesco Ponzetta. Curavano la latitanza dei boss dell'Andrangheta, ma anche un indefinito numero di traffici di consistenti quantitativi di cocaina, marijuana, eroina e hashish, oltre a custodire numerose armi da sparo comuni e da guerra. I componenti dell'organizzazione, sgominata stamani dai carabinieri del comando provinciale di Raggio Calabria con l'operazione Gear, armi tenute in modo clandestino e che, secondo gli investigatori, andavano a rafforzare l'efficacia e il potenziale delle altre aggregazioni criminali del mandamento tirremico, dalla provincia di Raggio Calabria, facendo base nella cava di Gioia Tauro, individuata dai carabinieri. I componenti, la banda, secondo l'accusa, commerciavano ingenti quantitativi di droga anche importati dall'estero, da paesi come l'Albania, Grecia, Marocco, Spagna e Turchia, per poi rivenderli in Italia, organizzandone l'occultamento, il trasporto e la cessione. In alcune circostanze lo stupefacente veniva nascosto in appositi borsoni collocati in container trasportati tramite nave. Il traffico di droga, secondo gli investigatori, ha rappresentato un'importante fonte di guadagno illecito per gli indagati. Nel corso dell'indagine sono stati documentati acquisti e vendite di carichi di sostanza stupefacente che potevano arrivare fino a 270 kg di hashish e marijuana per volta, anche importati dall'estero, nonché il sistematico occultamento all'interno della cava di numerosi pacchi da mezzo chilo ciascuno. Numerose sono risultate anche le armi nella disponibilità degli indagati. La dimostrazione sostengono i carabinieri di un'endemica pericolosità sociale dei componenti dell'organizzazione, pistole semiautomatiche calibro 7,65, 9x21, calibro 38, special, ma anche un fucile mitragliatore da guerra come il Kalashnikov. Dalle indagini è emerso che le armi venivano nascoste in borsoni fino a 30 pezzi in contemporanea. Per gli investigatori l'operazione colpisce soggetti al servizio delle diverse ramificazioni dell'Andrangheta della piana di Gioia Tauro, proprio nelle attività illecite essenziali alla conservazione e al mantenimento del potere mafioso. Daniela Maiolo, per Teleionio. Usura, corte di appello, revoca confisca beni a tre lametini. La corte di appello di Catanzaro, sezione misure di prevenzione, ha revocato la confisca dei beni eseguita nei confronti di MG, TC e MG. Il patrimonio immobiliare sottoposto a sequestro era costituito da un immobile in via delle Terme, un appezzamento di terreno con annesso fabbricato in località Caronte e un immobile con cinque vani in via Monaci Basiliani di Lamezia Terme. La misura era stata disposta in seguito a una condanna per usura di MG, datata nel tempo, dopo un lungo iter giudiziario che aveva visto di sequestrato solo le attività facenti capo MG. Il procedimento di confisca dei beni era giuntosi in incastazione. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso dei difensori, avvocati Antonino Tiglieci, Salvatore Stajano, Francesco Gambardella, Renzo Andicciola e Fabio Basile, aveva annullato con rinvio rimettendo gli atti ad alta sezione della Corte di Appello. Il collegio difensivo unitamente ai consulenti di parte Antonio Ruberto e Francesco Muraca, che hanno redetto le perizie, sono riusciti a dimostrare la liceità della provenienza dei fondi di MG e dei suoi familiari, accertando la liceità della provenienza dei beni. Dopo il silenzio, Pittelli chiede di essere sentito, lasciato in una cella lurida. È un'istanza corposa e significativa depositata al GIP di Catanzaro dagli avvocati Salvatore Stajano e Guido Contestabile, legali di Giancarlo Pittelli, indagato nella maxinchiesta della DDA di Catanzaro, rinascita Scott. Con questo nuovo atto viene chiesta la scarcerazione o la sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari, richiesta subordinata all'interrogatorio dell'assistito davanti al giudice Barbara Sacca, lo stesso giudice che ha firmato l'ordinanza di misura cautelare in carcere. Durante l'interrogatorio di garanzia, Pittelli aveva scelto di restare in silenzio, per poi rendere delle dichiarazioni spontanee davanti al giudice e al PM Anna Maria Frustaci, contitolare dell'inchiesta. Sono stato portato in carcere in una cella, si legge, dove c'è un giaciglio di ferro con 5 cm di gomma piuma lurida e uno stesso giaciglio per la testa di 2 cm altrettanto lurida. In una cella indicibilmente immonda, senza provvista di acqua, senza provvista neanche di sigarette o di generi di conforto. Posso dire semplicemente che trovo le contestazioni per quelle che ho letto del tutto assurde. Io non sono un massone, ma soprattutto non sono un mafioso. Sono massone in quanto appartenente a un circolo dal 1983 fino all'84, in cui mi dimisi perché lo ritenevo una cosa molto anacronistica e ridicola. Dopodiché ci sono rientrato per spinta di un medico soveratese nel 2017, proprio a patto che si riverdisse la tradizione liberale massonica come ideologia. Non ci sono mai andato, non ho mai approfittato, ho dovuto approfittarne semplicemente per le mie difficoltà nate da una grande truffa che ho subito negli anni 2006-2007, per i quali pagherò fino al 2029. Per il momento non ho altro da aggiungere. Daniela Maiolo per Tele Ionio. Duplice omicidio avvenuto nel 2006 nel Catanzarese, rinviati a giudizio i presunti autori. Il Gup di Catanzaro Barbara Sacca ha rinviato a giudizio Salvatore Abruzzo, alias Tubetto di 43 anni, e Francesco Gualtieri di 30, accusati del duplice omicidio di Massimiliano Falcone e Davide Iannoccari, uccisi a colpi di pistola calibro 9 la sera del 19 novembre 2006. Dopo l'omicidio, i cadaveri vennero dati alle fiamme e, secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, Abruzzo e i Gualtieri, appartenenti alla cosca Catarisano, avevano simulato di passare con i costali Falcone e si erano prodigati nel trovare un rifugio sicuro a garantire la latitanza di Massimiliano Falcone, che cercava di sfuggire a un provvedimento di fermo emesso dalla procura di Lamezia Terme. Il rifugio si trovava nel villaggio Lagomar del comune di Sorbo San Basile. E' qui che è stato consumato il delitto, quando i killer si sono assicurati che la moglie, i figli piccoli e gli accompagnatori di Falcone se ne erano andati, è constatato anche lo stato di alterazione delle vittime a causa dell'assunzione di alcolici. Il delitto è aggravato dalla premeditazione e dalle modalità mafiose, poiché si inserisce in una sanguinosa faida fra la cosca Catarisano di Roccelletta di Borgia e Costa di Falcone. Secondo le analisi scientifiche, sei colpi mortali hanno raggiunto Falcone e undici gli annoccari. I due imputati sono stati anche accusati di detenzione illegale di armi e distruzione di cadavere. Per loro il processo avrà inizio il prossimo 22 settembre davanti alla Corte d'Assise di Catanzaro. A Brusso e Gualtieri sono difesi dagli avvocati Salvatore Stajano e Antonio Lomonaco. L'accusa è retta dal sostituto procuratore della DDA di Catanzaro, Debora Rizza. Lorena Pallotta, Bertelle Ionio. Fiumi di droga sulla Movida Soverato, 5 rinvii a giudizio e 30 persone in abbreviato. Così ha stabilito il gruppo di Catanzaro Barbara Sacca al termine dell'udienza preliminare del procedimento Last Generation, istruito dalla DDA di Catanzaro contro i rampolli della Cosca Gallace di Guardavalle, che stando all'accusa avrebbero gestito il traffico di stupefacenti nel Catanzarese. Fiumi di droga, cocaina, hashish e marijuana, che avrebbero dovuto coprire in particolare le esigenze del mercato estivo del Soveratese. Dall'inchiesta è emerso che il quantitativo di droga sul quale l'organizzazione poteva contare era talmente elevata da coprire non solo il territorio del Soveratese, ma da permettere lo smercio degli stupefacenti anche in Lombardia, a Milano, nel Maceratese e anche all'estero. Secondo quanto emerse dalle indagini, il gruppo si avvaleva di Puscerbi Norenni, che facevano comunque riferimento a Vincenzo Aloi, 25 anni, nipote di Vincenzo Gallace, capo dell'omonima Cosca di Indrangheta radicata a Guardavalle. Il gruppo ha rinviato a giudizio Concetta Battaglia, Matteo Maida, Gianluca Meliti, Adriani Larri Rizzo, Simone Rocco Russomanno. Per il loro processo davanti al Tribunale collegiale di Catanzaro avrà inizio il prossimo 22 settembre. Vanno in abbreviato Udienza il 30 novembre, Vincenzo Aloi, Raffaele Campagna, Marco Ciano, Agazio Geracitano, Ozan Ganat, Micaele Occi, Mauro Masciari, Giuseppe Notaro, Antonio Francesco Pittelli, Pietro Procopio, Andrea Lucio Rizzo, Giulio Moreno Rizzo, Ettore Rositani, Davide Stumpo, Paola Vaccaro, Dele Camenot, Cesgai, Marco Verdiglione, Angelo Gagliardi, Italo Salines, Giuseppe Estrati, Fabrizio Benzi, Antonio Beressi, Francesco Galati, Antonio Grande, Vincenzo Longo, Leoni d'Antonio Montagna, Romano Ponzo, Orlando Giacomo Screnci, Annalisa Tortorelli, Moreno Tortorelli. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Smaltimento illecito di rifiuti, denunciato un imprenditore e due operai. Un imprenditore di Gerzetto e due suoi operai sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Cosenza per aver smaltito un cumulo di rifiuti attraverso la combustione illecita, pratica questa che ha provocato con l'emissione dei fumi derivanti dai roghi molesse o fattive alla popolazione residente. Alla denuncia di E3 si è arrivati a seguito di un controllo dopo che i militari delle stazioni carabinieri forestari di Montalto e Cerzetto sono stati attirati da una colonna di fumo densa di colore nero nel comune di Bisignano, a ridosso dell'autostrada. Il fumo proveniva dall'azienda appunto dell'imprenditore che insieme a due operai veniva colto a smaltire lecitamente svariate fibre di lana resinosa, scarti di materiale legnoso, segatura ed altri residui di lavorazione. Spento il fuoco che produceva fumi maleodoranti con pregiudizio per la salute dei cittadini, oltre a causare pericolo per la circolazione stradale, si è messa in sicurezza l'area. I militari delle stazioni dipendenti dal gruppo di Cosenza, diretto dal tenente colonnello Vincenzo Perrone, hanno inoltre potuto accertare sul luogo le tracce evidenti di diversi roghi, così come testimoniato da residui combusti ancora presenti sul terreno. L'area interessata di circa 400 metri quadrati, nonché un contenitore e due fusti colmi di rifiuti di lavorazione, sono stati posti sotto sequestro. Il sequestro, convalidato dalla Procura della Repubblica di Cosenza, è avvenuto anche per poter procedere ad effettuare le necessarie verifiche per appurare un'eventuale contaminazione del suolo e la reale caratterizzazione dei rifiuti ancora da smaltire. Derubano anziana fingendosi impiegati comunali a Nocera Terinese, arrestati dai carabinieri di Lamezia. I carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Lamezia sul richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di SF 57 anni ed SA 20 anni, entrambi residenti a Noto nella provincia di Siracusa. I due indagati, la mattina del 27 maggio scorso, si erano introdotti nell'abitazione di un'anziana donna residente a Nocera Terinese, fingendosi impiegati comunali e chiedendo di poter effettuare delle verifiche in merito alla riscossione delle imposte. La vittima aveva secondato le richieste dei truffatori, financo prendo la cassaforte per far visionare loro della documentazione. Mentre uno dei due complici intratteneva l'anziana, l'altro, con la scusa di andare in bagno, recuperava indisturbato la chiave della cassaforte precedentemente riposta dall'anziana donna, sottraendo dall'interno banconote, monili in oro e assegni per un valore complessivo di circa 10.000 euro. Successivamente, i due truffatori si congedavano rassicurando la donna sulla regolarità della documentazione ispezionata. Solo poco dopo, la vittima si rendeva conto di quello che era successo. Gli accertamenti e le indagini svolte dalla stazione Carabinieri di Nocera Terinese, attivati dalla vittima, hanno permesso di individuare l'autovettura utilizzata da due malviventi grazie a un'attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza dell'area cittadina, messa a sistema con le risultanze delle banche dati in uso alle forze di polizia. Venivano identificati anche due sospettati, già aggravati da precedenti di polizia specifici. L'occasione è favorevole per richiamare l'attenzione delle comunità sul fenomeno delle truffe alle persone anziane. Daniela Maiolo per Teleionio. Violenza sessuale su una quattordicenne. Indagini chiuse. Avviso di conclusione indagini per un 37enne pugliese, all'epoca dei fatti, capo animatore di un villaggio turistico di Ciron Marina, che approfittando del suo ruolo, la notte di Ferragosso 2018 avrebbe abusato sessualmente in spiaggia di una giovane turista napoletana quattordicenne, ospite con la famiglia della struttura balneare. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud, il sostituto procuratore Ines Bellesi, che ha coordinato la parte finale dell'attività investigativa avviata dal sostituto, Giampiero Galluccio, ha inviato l'avviso di conclusione indagini all'uomo che dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata perché compiuta i danni di una minore. Secondo l'accusa, per una decina di volte dopo la mezzanotte, il capo animatore avrebbe intercettato la turista, oggi si dicenne, che stava rientrando nel suo appartamento e trascinandola con forza in spiaggia l'avrebbe minacciata dicendole che altrimenti avrebbe ucciso lei e tutta la famiglia. La violenza si sarebbe consumata in spiaggia, dove l'uomo avrebbe dapprima schiaffeggiato la giovane e dopo averle tappato la bocca l'avrebbe immobilizzata portando a termine l'abuso. Il 31 dicembre 2019 il fidanzato della giovane raccolse la confessione degli abusi che la giovane avrebbe subito nel villaggio. Così è scattata la denuncia dei familiari della sedicenne ai militari dell'arma. Lorena Pallotta per Teleionio. Principio di incendio in imbarcazione a largo di Scilla, salvate sette persone tra cui due bambini. Sette persone tra cui due bambini che si trovavano a bordo di un'imbarcazione interessata da un principio di incendio sono state salvate a largo di Scilla da una unità navale della Guardia Costiera impegnata nell'operazione Mare Sicuro. L'equipaggio della motovedetta durante un servizio di controllo, notata l'imbarcazione di circa 12 metri di lunghezza in difficoltà, è intervenuta riuscendo a domare l'incendio con i propri mezzi per poi trarre in salvo gli occupanti, soprattutto i minori che erano in preda al panico per le possibili conseguenze dell'accaduto. Dopo avere trasferito a bordo i diportisti, la motovedetta CP735 della Guardia Costiera ha rimorchiato l'imbarcazione e si è diretta in piena sicurezza nel porto di Villa San Giovanni. Per Teleionio, Anna Maria Colabrano. Contatti con il positivo di Spadola, 5 quarantene a Serra. Il commissario straordinario del Comune di Serra San Bruno, Salvatore Guerra, ha adottato 5 ordinanze di quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva nei confronti di altrettante persone residenti nella cittadina della Certosa. Il provvedimento in vigore del 24 luglio al 7 agosto riguarda persone che sono entrate in contatto con l'uomo di Spadola, rientrato dall'estero e risultato positivo al coronavirus. Le ordinanze sono state notificate anche alla Polizia Locale, all'Asp di Vibo Valenti, al Commissariato di Polizia di Stato e al Comando Compagnie Carabinieri, affinché ciascuno nell'ambito delle proprie competenze vigili sul rispetto dei provvedimenti. Gratteri, io ministro, impossibile, perché per accettare dovrei avere carta bianca. Non c'è un problema giustizia oggi, ma da decenni. Non abbiamo ancora un legislatore che affronti il problema in modo radicale, avendo il coraggio di rileggere i codici per modificarli, per adeguarli alle esigenze del 2020. Lo ha affermato il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, a Catania, a margine della presentazione del libro del magistrato e componente del CSM Sebastiano Ardita, Cosa Nostra, S.P.A. Ci provammo, ha aggiunto, in una commissione del 2014 che aveva il compito di fare delle riforme di superficie, ma nemmeno quelle passarono. Passò solo quella del processo a distanza, che consente un risparmio di 70 milioni di euro all'anno, limitando a zero il rischio di evasioni. Solo per questa riforma gli avvocati fecero 5 giorni di sciopero. Io, Ministro della Giustizia, sto benissimo a Catanzaro a fare il procuratore capo. Fare un'operazione del genere è impossibile perché per accettare devo avere carta bianca, ha poi detto Gratteri rispondendo alle domande dei giornalisti. Con riferimento all'emergenza Covid-19, il procuratore di Catanzaro ha ribadito la sua visione. Nel medio e nel lungo periodo il coronavirus ha rafforzato le organizzazioni criminali. Noi pensiamo agli imprenditori commercianti e ristoratori che non sono riusciti ancora a riaprire o a lavorare a regime. Potrebbero essere tutti preda di usurai e dopo una lenta agonia sappiamo che il loro obiettivo è quello di rilevare l'attività commerciale e poi fare riciclaggio. Infine Gratteri ha commentato anche la vicenda dei carabinieri arrestati a Piacenza. Sono soltanto me ne marce, non c'è un problema reale. Da più di 30 anni lavoro con i carabinieri e ne ho conosciute diverse migliaia che danno l'anima e che hanno nel sangue il senso della giustizia. La corruzione, i corrotti, gli infedeli e gli indegni sono in tutte le categorie. Questo non vuol dire buttare l'acqua sporca con tutto il bambino, ma avere il coraggio di togliere in modo radicale queste mele marce per continuare ad avere fiducia perché non esiste alternativa. Ha concluso il procuratore di Catanzaro. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. La conferma da parte di Pippo Callipo delle proprie dimissioni da consigliere regionale della Camera riflette la crisi della politica, specialmente in una terra come la nostra, segnata dalla criminalità e dalle vecchie logiche di questione del potere e di formazione del consenso. Lo affermano in una nota i parlamentari Movimento 5 Stelle, Francesco Sappia, Bianca Laura Granato e Giuseppe Di Polito, che aggiungono «Callipo ha gettato la spugna e commesso un grosso errore». Possiamo comprendere, ma non giustificarne le ragioni, in parte riconducibili alle vicende dei vitalizi, che ne ha rivelato l'ingenuità politica, in parte legate ai conflitti nel pit di calabrese, diviso tra nostalgici di palazzo e altri, spesso inadeguati, accogliere le trasformazioni politiche in corso, la pericolosità delle destre e la necessità di determinare un cambiamento culturale profondo, avulso dalla ricerca del consenso. «Callipo», proseguono i parlamentari del Movimento 5 Stelle, «è stato nostro concorrente alle ultime regionali, allora ha rappresentato un riferimento per tanti, di cui noi vogliamo essere interlocutori, i quali speravano in una nuova classe dirigente, nemica degli accordi interessati e vicina alle intelligenze». «Alle energie buone della Calabria, l'uscita di scena dell'imprenditore, definitiva e irrevocabile, è pertanto alla sconfitta», osservano i pentastellati, «del progetto politico di centrosinistra regionale, che ha dimenticato i propri elettori e che non sa vedere né stigmatizzare i volta gabbana di quella politica di promesse e favori che finora ha determinato grandi fortune per pochi e l'emigrazione di molti». «Ci auguriamo», concludono i parlamentari Movimento 5 Stelle, «che il PD calabrese impari la lezione, che sappia rigenerarsi con risolutezza, coscienza e visione, che per il bene dei calabresi abbia la volontà di recepire i nostri stimoli e le nostre proposte». Daniela Maiolo, per Tele Ionio. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Regione, insediata Commissione Consigliare Sanità. Si è insediata oggi la terza Commissione Consigliare Permanente Attività Sociali, Sanitarie, Culturali e Formative, presieduta dal consigliere Sinibaldo Esposito. Presenti e votanti sei consiglieri, l'organismo ha eletto vicepresidente il consigliere del PD Libero Notarangelo. Due le preferenze, quattro le schede bianche. A riferirlo è un comunicato dell'ufficio stampa del Consiglio regionale. In apertura dei lavori, riporta il comunicato, il Presidente ha svolto una relazione introduttiva per illustrare i compiti e funzioni della Commissione. Ringrazio per essere stato eletto alla guida di questo organismo, che riveste grande centralità ed importanza per la comunità calabrese, ha detto Esposito, ancor più nella fase così delicata che stiamo attraversando. Sulla Commissione Sanità i riflettori sono accesi e c'è una ragionevole attesa rispetto ai provvedimenti e agli atti di indirizzo che assumeremo. Rivolgo ai colleghi esponenti dell'opposizione l'invito alla leale collaborazione, convinto che riusciremo a trovare sintesi e sinergie su argomenti che per loro intrinseca natura valicano le appartenenze politiche e costituiscono patrimonio comune. Dopo anni di commissariamento e frammentazione dei settori che dovrebbero guidare univocamente la sanità, ha aggiunto Esposito, servirà ripensare l'organizzazione dell'intera rete sanitaria, distinguendo il sistema ospedaliero, presidi ABB e SPOC, dalla rete territoriale per rimuovere le criticità attuali che allontanano la concreta garanzia del diritto alla salute ed assicurare così la certezza sull'erogazione delle prestazioni. Sarà importante, infine, giungere anche alla definitiva integrazione del pugliese con la Mater Domini. A chiusura della relazione del Presidente sono intervenuti il Vice Presidente Libero Notarangelo, il Segretario Raffaele Sainato ed i componenti Francesco Pitaro, Misto, Giuseppe Graziano, Unione di Centro e Filippo Mancuso, Lega Salvini, che hanno offerto diversi contributi e proposte rispetto alle priorità da affrontare sui tanti versanti di interesse della materia sanitaria. Rispetto agli interventi dei diversi consiglieri si è convenuto di redigere, in occasione delle future riunioni di commissione, ordini del giorno Snelli, di intervenire sin da subito su alcune tematiche, come l'urgente problematica del Servizio 118 delle ASP di Catanzaro e Crotone, di affrontare la questione del welfare e dei nuovi ospedali, avendo come direttrice di impegno lo sforzo, partendo dalla conoscenza delle specificità del territorio, di rendere la Calabria una ed una sola, garantendo uniformità dei servizi sanitari dal Pollino a Scilla. Per Teleionio, Anna Maria Colabrano. Regione, Luigi Tassone, eletto vicepresidente della Commissione Agricoltura e Turismo. Si è insediata ieri a Palazzo Campanella la sesta commissione consigliare Agricoltura e Foreste, consorsi di bonifica, turismo, commercio, risorse naturali, sport e politiche giovanili, presieduta dal consigliere Pietro Molinaro. Presenti e votanti cinque componenti, Crinol, Giannetta, Molinaro, Vito Pitaro e Tassone. L'organismo consigliare ha eletto con un voto favorevole e quattro schede bianche alla carica di vicepresidente il consigliere Luigi Tassone del PD. Sono onorato di ricoprire il ruolo di vicepresidente e al tempo stesso responsabilizzato, riconoscendo a questa commissione la centralità rispetto in particolare a due grandi questioni, turismo ed agricoltura. Costruiremo insieme percorsi condivisi e partecipati, dando voce a tutti gli operatori del comparto, ha asserito Luigi Tassone. Dopo l'augurio di buon lavoro da parte dei componenti alla commissione, che hanno sottolineato la competenza nel settore di Pietro Molinaro, è stato lo stesso presidente a chiudere i lavori odierni. È un giorno importante che apro ufficialmente l'attività di questa commissione, che è stata fortemente voluta in seno al Consiglio regionale. Un organismo di nuova istituzione, corroborato dalle deleghe importate, che avrebbe a cuore, ha richiamato il presidente, tematiche di fondamentale importanza connesse a opportunità preziose, come quella dei fondi comunitari, sulle quali cominciare a lavorare per disegnare e programmare uno sviluppo effettivo e funzionale ai bisogni del territorio calabrese. Il nostro vuole essere un lavoro di squadra a tutti i livelli. Giunta e consiglio e ringrazio fin da ora gli uffici di Palazzo Campanella per la collaborazione che sapranno offrire, ha concluso Molinaro. Daniela Maiolo per Tele Ionio. A San Vito sullo Ionio la presentazione del Movimento Civico Liberamente, il servizio di Francesco Pungitore. Ripartire dalle idee, dai temi, dai programmi, ma anche dalla passione, dal coinvolgimento, dalla partecipazione dei cittadini sulle scelte che riguardano l'interesse collettivo. Il Movimento Civico Liberamente traccia la strada per costruire il futuro di San Vito sullo Ionio in vista delle prossime elezioni comunali di settembre. Un futuro di cambiamento netto e radicale. Presentandosi in pubblico nel corso di una manifestazione molto partecipata e ricca di interventi, i fondatori del progetto politico hanno delineato le linee guida di un impegno che vede tanti giovani e tante donne protagonisti di una rivoluzione copernicana che rimette al centro il meccanismo della cittadinanza. Lo hanno spiegato nel dettaglio l'architetto Francesca Savari e il docente universitario Gianfranco Macri, introducendo la manifestazione. Sono seguiti gli interventi di Fabrizio Fossella, Roberto Galati, Francesco Denaro, Cristoforo Tassone e Francesca Filodoro, che hanno esplicitato un articolato ventaglio di riflessioni sull'economia, il lavoro, l'agricoltura, la cultura, le politiche giovanili, l'ambiente e il territorio. Marilisa Bertuca ha quindi presentato gli esiti di un questionario attraverso il quale il Movimento ha centrato bisogni e priorità di intervento. Più della mità delle risposte ha fatto riferimento alla necessità di dare al Paese una gestione amministrativa competente, in grado di ricostruire un tessuto sociale lacerato, costruire un nuovo corso della politica, l'auspicio conclusivo degli organizzatori, che hanno anche testimoniato il supporto ricevuto da tanti sanvitesi fuori sede per studio, per lavoro, legami che resistono alla logica dell'abbandono e della rassegnazione, che aprono ulteriori margini di speranza per il futuro di San Vito. Un movimento civico che segna qui a San Vito sicuramente un momento di novità, la rottura di un certo immobilismo degli ultimi anni. Sì, un movimento civico e non politico, tendo a precisarlo, perché tra noi ci sono più figure appartenenti a più correnti politiche. Quello che però ci preme in questo momento non è portare avanti un partito piuttosto che un altro, ma una ideologia comune che si fonda sul bene comune. Abbiamo scelto appunto questo luogo che un po' rappresenta anche la nostra infanzia, tra le due scuole, scuola elementare e scuola materna, proprio per racchiudere e per comunicare quello che diciamo sono le nostre volontà. È un movimento del tutto nuovo, svincolato da qualsiasi condizione politica attuale. Non abbiamo figure del passato che ci sponsorizzino o che ci rappresentino. Siamo soli e preferiamo correre da soli questa strada che vediamo dove porterà. Dipende molto dal consenso del pubblico. Conoscendo un po' l'andazzo politico siete partiti dalla fine, perché siete partiti dal programma che notoriamente viene considerato un orpello da tutti gli altri movimenti e partiti. Si tratta di un documento programmatico, quindi non un programma elettorale ma un riassunto di quelli che per noi sono i cardini che questo programma vuole portare avanti. Quindi dei punti propedeutici che riassumono le difficoltà di questo Paese. Suggeriamo anche qualche piccola soluzione, però siamo aperti a nuove idee, ad altre tante soluzioni. Abbiamo bisogno ovviamente del supporto della popolazione che si svincoli assolutamente da quella che è stata la politica finora e che possa guardare avanti proprio per il bene comune di questo Paese che ne ha veramente bisogno. E ovvia la domanda legata al prossimo appuntamento elettorale con le comunali di settembre. Insomma, vi state preparando a quell'appuntamento o state lavorando per maggiori, più larghe alleanze? Allora, siamo pronti a tutto. Ovviamente il tutto dipende molto dai consensi. La situazione politica è un po' particolare. San Vito credo come in ogni comune, ma queste sono tornate elettorali un po' più particolari. Veniamo da un commissariamento e quindi quello che noi ci auguriamo è che le persone siano veramente coscienti di quello che fanno e noi diamo tutto il nostro supporto. Questo è uno strumento. Noi l'abbiamo denominato una cassetta per gli attrezzi che il popolo dovrà utilizzare seguendo solamente, ci auguriamo, i propri pensieri. E quindi lontano da qualsiasi tipo di pressione politica o di millantatorio, di pseudopolitici che finora hanno supportato le correnti attuali. Quindi è una svolta. Ci auguriamo sia una svolta. Professore Gianfranco Macri, è importante anche il ruolo dei sanvitesi non residenti nel ricuscire un po' le fila di questo tessuto comunitario. Beh è fondamentale, nel senso che questo è un movimento che ha una vocazione corale e noi abbiamo deciso di puntare proprio su questo aspetto perché pensiamo che sanvito di tutti, sia di quelli che risiedono stabilmente, sia di quelli che ovviamente non risiedono stabilmente. Anzi la cosa che abbiamo notato in queste settimane di lavoro è stato proprio questo grande attaccamento da parte delle persone che non risiedono verso questo progetto. Per cui penso che si debba valorizzare bene questa componente e creare il giusto bilanciamento tra quelle che sono le aspirazioni dei residenti e quello che è l'apporto innovativo che chi non è residente vuole dare. Dicevamo un po' con una battuta, insomma il movimento ha deciso di partire dalla fine, cioè dei programmi. Di solito in ambito comunale il programma viene considerato un po' l'orpello da inserire alla fine di tutto. È vero, sì. Abbiamo deciso e lo abbiamo fatto in grande anticipo in realtà perché tutto il mese di giugno l'abbiamo dedicato alla riflessione, allo studio, all'approfondimento delle questioni più importanti. Infatti nasce questo documento programmatico come una sorta di recinto, di linee guida sulle quali poi eventualmente strutturare qualcosa di più politico da spendere in chiave elettorale. Per il momento questo ci basta, speriamo che il progetto, il documento possa raccogliere consenso, possa raccogliere richieste di chiarimento e liberamente nasce per includere, non nasce per dividere. Si offre alla comunità sanvitese con questa propensione e immagina che possa, come dire, diventare un momento di rinascita per la comunità che noi riteniamo essere assolutamente indispensabile. Comunali, progetto civico per Satriano, fabbreccia tra i giovani. Siamo un gruppo di giovani della Marina di Satriano e abbiamo a cuore le sorti di questa parte di territorio come di tutto il Paese. In vista delle prossime elezioni comunali del 20 e 21 settembre vogliamo impegnarci a lavorare perché finalmente il nostro Paese possa conoscere un periodo di stabilità per poter affrontare, nello spazio di tempo necessario, tutti quei problemi che possono migliorare le condizioni generali della comunità. Riteniamo per questo che il progetto civico per Satriano, con la lista Il Ponte e con il candidato a sindaco, avvocato Francesco Maida, hanno tutte le caratteristiche necessarie per poter vincere la sfida e per amministrare in maniera virtuosa e concreta. La proposta del progetto civico è l'unica che in questi mesi ha svolto un lavoro serio e lineare, al contrario di tutti quelli che hanno passato il tempo a discutere di ambizioni personali ed improbabili intese che non hanno trovato alcun riscontro. Ecco perché abbiamo deciso di scendere in campo e di prendere posizione a favore del progetto civico, che secondo noi può davvero dare un forte impulso e una marcia in più per costruire una stagione di progresso e di sviluppo nell'interesse di tutti i cittadini di Satriano. Noemi Barbieri, Lucia Frustagli, Vincenzo Gatto, Vittor Tinello, Alessio Ritano, Domenico Bascerano, Giovanni Diaco, Daniele Procopio, Andrea Cosco, Beatrice Scutieri, Federica Gorgonio, Alessandra Guanta e Giovanni Maida. Lorena Pallotta per Teleionio. Continuano le problematiche a Davoli. Il sindaco Papaleo replica il manifesto del circolo del PSI, linea Lorena Pallotta. Sindaco, qualche tempo dietro un'altra vicenda sgradevole ha colpito l'amministrazione comunale dalle guidata, il manifesto dei socialisti. Come si è evoluta quella brutta situazione? Sì, è uscito un manifesto. Non è una vicenda sgradevole, anzi, è sgradevole forse per chi l'ha messa in campo, per l'amministrazione no, perché non ci turba minimamente. Il fatto che un partito politico, dopo cinque anni di assenza totale, che non si è interessato di un problema, che non ha discusso una problematica, non ha attenzionato nulla all'amministrazione, si sveglia un mese prima delle elezioni e dica che l'amministrazione non ha fatto nulla per cinque anni, che ha disamministrato, che tutte le opere che noi abbiamo gestito erano finanziamenti della precedente amministrazione. È un ragionare politicamente fievole. Io ho dovuto dimostrare con un video che ho fatto che l'amministrazione comunale, l'impegno comune, ha avuto finanziamenti suoi per oltre 7 milioni di euro. Quindi dire che non è stato fatto nulla, il dibattito politico non lo crei così, però io questo lo posso pure accettare, perché giustamente tra partiti, tra gruppi e soggetti politici diversi ci si dice pure questo. È normale che se uno ti fa un manifesto dicendo questo, noi come amministrazione dobbiamo rispondere e dire guarda che abbiamo fatto questo. Allora noi a quel manifesto, io ho risposto non con un altro manifesto, con un video dove ho detto guardate che però forse in questi cinque anni di vostra assenza non vi siete accorti che noi abbiamo avuto finanziamenti per 800 mila euro per sistemare la scuola elementare qui a Davoli Marina, 450 mila euro per sistemare la discarica Vasi, che era un sito, non la discarica era la caserma dei carabinieri che non era strutturalmente buona, agibile dal punto di vista sismico. Abbiamo finanziato un progetto in montagna di 200 mila euro per un'area picnic, abbiamo rifatto la delegazione nuova, stiamo facendo una palestra e quindi poi certo abbiamo gestito anche finanziamenti che non erano nostri, ma questo è nella naturalezza delle cose perché un'amministrazione che esce e arriva l'altra, l'altra trova dei finanziamenti e li deve gestire, come se noi dovessimo andare via fra qualche mese chi arriverà avrà altri finanziamenti da dover gestire. Io mi auguro però che i cittadini veramente valutino tutte queste cose, valutino soprattutto la disponibilità che noi e l'impegno che ci abbiamo messo nell'amministrare la cosa pubblica e decidono in serenità, senza farsi condizionare. È logico che è giusto ascoltare tutti, ma non si devono far condizionare, loro devono vedere i fatti sul territorio e i fatti dicono che Davoli sta avendo uno sviluppo territoriale che mai aveva avuto prima nel contesto suo di programmazione amministrativa. Grazie a tutti!